Ma quali parole? Solo muto silenzio. Non c'è tempo, nient'altro da ascoltare. Siete tutti morti, seppelliti di inutilità. Ma davvero vi spaventa questa novità? Assaporare la carne nuda dell'artista? Date un'occhiata, ma non disattenta. È come la salata macellata del maiale. Accoglietela, basterà solo assaporarla. È sciapa, non fa male. Mangiatela tutti. È come quella di un cane bastonato, oppure abbandonato che è sempre lì, legato alla catena dell'arte che attende un po' d'amore. È troppo facile digiunare, farsi da parte, abbiamo bisogno di imparare. Nessuno è nato abile a comprendere l'infinità, né l'artista, né lo spettatore. L'arte è nella vita.